in base al nuovo dpcm gli è fatto espressamente di vieto di assembramento sia all'interno che all'esterno della panna oltre la mezzanotte possono sostare massimo sei pastori dieci peore e due anni da riporto gli angeli della panna non possono sostare ma devono rimanere seduti oltre a gesù e giuseppe maria possono restare sulla panna al massimo tre congiunti visto che il bue e l'asinello tutto solo che congiunti uno dei due è pregato di allontanarsi questo vuol dire che devono essere due buoi o due asinelli purché appartenenti allo stesso nucleo familiare per quella questione di geni le bestie all'interno della panna devono usare la mascherina e non soffiare sopra cui poi lo figliolo in caso di necessità saranno i re magi a portare i dispositivi di sicurezza capriamo anche l'ira di giuseppe che quest'anno non avrà oro incenso e mirra ma soltanto mascherine e gel per le mani ma lo facciamo per il bene della comunità non roviniamoci la serata grazie 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 grazie